Stiamo di fronte all'hobbitol Tutto nuovo della pioggia, ecco le metri a parcheggiare come non mai Noi non parcheggeremo a questo punto Fiseremo dritto a colomo della pizza, ecco i vicini urbani Ecco il macchinone che pretende Anche con le nuove tendenze diKnife, un design, uniciale di ultimo. Di cosa dobbiamo aspettarci per il nuovo video Sono la restaurantes�enziali, mi aspetto a me Invece e legittime un'intervista di là, non devono leggere il primo video Non è un'intervista di pranzo di là Ci sono molto molto più Sì, abbiamo fatto un po' di amete